dai come fanno a giocare scusa cominciamo il video vuoi fare l'outro quindi chiudiamo il video prima di aprirlo comunque ragazzi visto che non so se avete capito questo nuovo video sul mio canale un video di fifa pensate assieme a noxer ciao comunque siamo qui con questa nuova sfida incredibile di fifa perché siamo qui con la two players one pad un pad che tra l'altro si torna la mia camicia molto di una spada uno spada chiediamo poi i diritti a spade più tardi la seguente ovvero quella della winter cup che purtroppo è andata a puttane però comunque allora cosa faremo in questo video allora chiaramente che è una partita chiara mente e io dico la verità allora io in questo video perché mi sono messo a sinistra e poi non so se loro vedranno sinistra o destra che dici fammi pensare vedranno sinistra però no per quella testa ma se subito vedranno sinistra però è la loro destra lei dovrebbe compiere i comandi base quindi se potrebbe pure fare il problema è che lei non sa giocare attiva io sa tutti non è vero non sa giocare attiva l'ultima volta non è andata bene però adesso ci riproveremo e prenderemo le sveglie online una partita sola perché altrimenti finisce malissimo allora dobbiamo evitare di prendere 5 gol se prendiamo anzi 7 gol per chi sono dalla roma quindi poi mi prendono per il culo quindi se prendiamo meno di 7 gol va bene ok perfetto è la madonna ma come nooo è ronaldo quello no è il fratello ce l'ha tutti non è che gli manca qualcuno però non hanno io in parte probabilmente adesso starà piangendo dice cazzo questo è il fatto che c'è lui gioca con oikonomu e io c'ho invece i toz però vabbè ma i tozzi scusa no i tozzi giochiamo? ti ricordi come si fa? eviti di farmi per favore io quindi corri piede? basta però io devo solo ok io non devo fare niente se non questo ah tu devi correre? cioè nel senso con questo devi correre con questo si corre sicuro no? si 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 no no sicuro è questo perchè i domandini sono quelli dai io devo muovere solamente il giocatore che cosa urli? no 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 esce con il triangolo 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 per in cioè sempre per me non è una cosa molto clericale questo video bravissima bravissima ora ora ripartiamo tieni palla io corro eh cioè tu corri triangolo forti quelli che vengono PERE lo NO NON DI RENO LA GIАinyaO LA POLIZZIA hai fatto tutto bene quando stai vicina a giocari tuo premi x quando sei milliards bravissima non è neanche ballo ottimo sicuri che ti passa adesso ti valla x buonissimo che aspetta 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 smr aspettavo continuiamo a giocare continuiamo a giocare sono emozionato perché se riusciamo ok allora x vai buonissimo ti ripalla no va bene ti ripalla ti ripalla allarga troppo al fondo cerchio 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 che il quadrato quadrato di cosa che ce l'ha il portiere via il joystick ora quadrato x insieme no cerchio no cerchio perché ce lo butta fuori non ci credo ma sarà il quello forte appunto perché tutti insieme quali criterio prova quadrato prova quadrato provalo oh mio dio oh mio dio oh mio dio 7 7 7 7 no 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 vabbè qual era torna qua oh quadrato 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 no che cazzo fa il pallonetto quadrato sempre io ho premuto quadrato e basta io ne so come si fa il pallonetto no 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 non ci no vabbè aiutare qualcuno aspetta no via ti prego ma vaffanculo ma dai ma che gioco è scriptato è tutto scriptato ragazzi ok ce la possiamo fare qua ce la possiamo fare aaaah raga è bella 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 ci piace è bella è bella è bella fifa fifa è proprio fregna Pazzo Va bene Occhio, occhio Che questo chiara subito Lo sapevo Ma apprezziamolo Ma porca puttana Cosa vuoi dire a tua discolpa È lo script Ma vaffanculo A te è lo script Bene Quadrato Oddio male Ma mamma mia Non ci credo Non ci credo No vabbè Non ci voglio dire Ma è stata un'attesa Più lunga del secolo Cioè Mamma mia Vabbè comunque Comunque onore a noi Per questa partita In dieci Stiamo andando benissimo Abbiamo giocato in dieci E con me Soprattutto È la cosa più importante Però comunque Ragazzi Cioè Vi sfido a fare una partita del genere Perché comunque È stata una gran partita Poi Dovete ricordarvi anche la squadra Che aveva lui Esatto Io avrei firmato Avrei firmato per questo risultato Perché è la partita Triangolo intanto Triangolo ancora Eh vabbè Io l'ho premuto a triangolo Però Comunque È chiaro che anche dalle occasioni Che abbiamo avuto Poteva finire meglio Oh mio dio Se li smarca Adesso appena te lo dico io Triangolo Segniamo un gol E abbiamo vinto Aspetta Triangolo ancora Triangolo ancora Gol Gol Ma chi è questo? Dopo una partita intera Madonna mia ragazzi Del tipo Si però gioca D'altro Non si non lo trovo Del tipo che se ne fa un'altra Sii Hanno risultato i nostri Non avessimo vinto Mi sa che hanno capito La difficoltà motoria Di questa partita Mamma mia ragazzi Che partita Allora Aspetta Che mo' dobbiamo dirlo Se arriviamo A 250 Like Grazie per l'assistenza Entro Mai Basta che arriviamo a 250 Se arriviamo a 250 like Vi riportiamo un altro video del genere Perché a parte il fatto Che è epico Dai È stato un video abbastanza divertente Sì Vi signori Allora Vi ripeto 250 like Se volete un altro video del genere E O comunque Ditemi anche nei commenti Con chi A parte lei Vorreste un altro video Per questo Noi ci sentiamo alla prossima Passate in descrizione Tutti i link Compreso il suo canale Se non lo siete già Iscrivetevi al mio E Anche a mio Se vi va Non è che vi lo stringo Da noi È tutto Per il momento è tutto E quindi Bella Bella